E se io vi dicessi che ho trovato un dissipatore a 50 euro, con ben 6 anni di garanzia, capace praticamente di dissipare quasi il 99,9% dei processori attualmente sul mercato? Signori, ecco qua una piccola recensione sul Endorphi Fortis 5 RGB. Buon salve, buon salve a tutti signori e bentornati qui su Rama95 YouTube, l'unico canale tech dove c'è il latte nella tecnologia, signori bentornati a tutti e buon salve a tutti. Vi porto qualcosa per rimanere freschi, so che magari quando uscirà questo video saremo più freschi, però io vi dico, visto che siamo nella seconda andata di caldo post-terra-agosto, in questo momento fuori, boh, in stanza ce ne ho, aspettate eh, in questo momento in stanza ce l'ho a 30 gradi perché ho acceso tra poco il condizionatore, quindi credo che tra poco inizieranno a scendere un pochino le temperature, però effettivamente diciamo che, visto che parliamo di caldo, è bene iniziare a pensare a dissiparci, quindi anche lì teniamoci freschi. Mi raccomando ragazzi, prima di proseguire il video, non dimenticate di iscrivervi qui al canale, attivare la campanella delle notifiche e sotto, oltre, vabbè, oltre a lasciare iscriverti tutti gli altri canali che vi lascio qui sotto in descrizione, come vi dico sempre, voglio lanciare un hashtag perché se siete arrivati per meno a questo punto del video, vi lancio un hashtag che dovete mettere sotto nel video e in ogni video a questo punto, di dove c'è qualsiasi punto di dissiparsi, qualsiasi video con dei dissipatori. Andate lì sotto e scrivete hashtag freddo, così, semplice, all'acqua di rose, niente di così cattivo, semplicemente una roba che se è in toscana e si fa per ride. Poi vi ricordo che vi aspetto per i 2000 iscritti per fare il PC da 650 euro, e inoltre io, ve la butto così, a 2000 iscritti mi faccio un mese con la 1070 Ti. Ragazzi, 2000 iscritti, un mese con la 1070 Ti. Quindi io vi aspetto lì, vi aspetto al varco. Allora, ringrazio Endorfi, nel particolare la persona di Umberto, che si occupa della parte italiana per Endorfi, di avermi mandato questo dissipatore in prova, ovvero il Fortis 5 ARGB, il loro dissipatore ad aria top di gamma. E effettivamente, per il costo che ha, le garanzie che tiene e le prestazioni che tiene, effettivamente sono state molto, molto sorprendenti. Partiamo con un po' di specifiche e poi passiamo al resto. Allora, il dissipatore nasce con una singola torre, Seyeth Pipe. La torre è alta, comprensivo dell'inserzione per gli RGB, è alta 156 mm, quindi già con questo, se avete intenzione di comprarlo, controllate sul sito del produttore del vostro case, o se non è già vostro, o comunque dovete comprare un case, controllate che ci entri per altezza, ma 156 mm è già abbastanza universale come dimensione. Per quanto riguarda i case, quelli classici, Mi Tower o Micro ATX. La dimensione ovviamente è per una larghezza di 144 mm e per una profondità di 107 mm. Parlando invece della ventola che ci viene data in dotazione di base, ovviamente è una ventola, anch'essa, a RGB, quindi è addressable, quindi può essere sincronizzata con i led della vostra scheda madre, quindi avrà un gioco di luci più completo rispetto a un RGB classico. Anche lei è da 140 mm, con una velocità che va da circa 250 rpm fino a un massimo in boost di 1400 rpm. Ovviamente è possibile, visto che comunque è una ventola PWM, poter customizzare la curva delle ventole in base alle nostre esigenze, vogliamo che sia una ventola più aggressiva, più silenziosa, o che sia sempre a manetta. Diciamo, possiamo settare la curva delle ventole come vogliamo, sia da BIOS che sia poi magari dal programma della scheda madre interno, quindi è possibile spaziare in ogni dove. La cosa interessante è la parte appunto del TDP. TDP di questo dissipatore è di 220 Watt. Ora, 220 Watt sono un numero molto alto per un dissipatore ad aria che costa 50 euro, e infatti questo lo rende praticamente compatibile con processori che si va per quanto riguarda gli Intel da il 12100 fino al 13700K, praticamente, e per quanto riguarda i Ryzen, tutti, tutti. Quindi, letteralmente, rende questo dissipatore compatibile con appunto il 99,9% dei processori attualmente disponibili sul mercato. Quindi, ce li è tutti. Dici, voglio prendere, voglio acquistarlo per metterlo su un 13100K? Ok, ci sta. Voglio metterlo sul 7800X3D? Ci sta. Vuoi metterlo sul Pentium perché ti garba averlo sul Pentium? Ce lo finchi pure sul Pentium. Cioè, lo metti dove ti pare questo qui. Infatti, questo è il suo grande pregio, quindi avere un TDP che lo rende compatibile a livello proprio di potenze termiche da dissipare con una maggior parte dei processori, quasi tutti i processori di finire sul mercato, sia nuovi che usati. E poi, l'altra sua chicca è la compatibilità di socket. Perché, per quanto riguarda AMD, si parte dagli FM1, FM1 fino a M5. Quindi, già lì, immaginate la line-up di AMD dagli FM1 a M5. Boom. Già lì avete già assoluto l'imbarzo della scelta. Per quanto riguarda Intel, partiamo dagli 1156 fino agli LGA 1700 per quanto riguarda la parte Consumer. Poi, invece, per quanto riguarda le schede matri serie X, partiamo dall'LGA 2066 fino all'LGA 2011 V3. Quindi, insomma, anche qui, di supporto ai processori Intel, scheda madre Intel, socket Intel, ce n'è veramente per tutti i gusti. Cosa ci arriverà in confezione? Beh, in confezione ci arriverà sostanzialmente tutto l'occorrente che ci serve per assemblare il dissipatore, pasta termica inclusa, con tanto di foglietto di ringraziamento di endorfi, e poi un intuitivo e semplice libretto delle istruzioni. Ovviamente questa versione ha soltanto una ventola, quindi vi arriverà con una ventola da 140 mm, però esiste una versione con due ventole, oppure se volete magari acquistarla in un secondo momento, è possibile anche acquistare la seconda ventola successivamente per poi aggiungerla al dissipatore, per avere poi il famoso effetto push-push a doppia ventola nel dissipatore. Passiamo invece adesso all'assemblaggio. L'assemblaggio può sembrare strano, per quanto riguarda Intel, perché noi abbiamo montato il dissipatore sulla mia test bench con i5-13004, può sembrare una cosa un po' particolare, perché effettivamente il backplate è un po' strano, ha più fori, quindi si deve allineare al tipo di socket, però in realtà è molto comodo, perché te con un solo backplate, prendete a bracci tutti i socket LGA di Intel, quindi sei a bomba, sei letteralmente a bomba. Quindi basta capire quali sono i fori che ci interessano per il nostro socket, allinearli sui fori della scheda madre e poi iniziare un tranquillo e semplice assemblaggio. Alla fine la difficoltà è richiesta, sono quattro viti, più altre quattro per il supporto della torre, più avvitare le due viti della torre, quindi si tratta praticamente di avvitare dieci viti, dieci viti, mamma mia. Viene fornito poi tutto un comodo, una comoda chiavettina inglese per stringere le viti per assicurare il backplate al socket. Ovviamente mi raccomando ragazzi, quando avvitiamo le cose sulla scheda madre, non dovete stringere a morte, stringete quanto basta per vedere che tutto è saldamente fermo. Mi raccomando, non fate gli ignoranti e stringete a morte, perché poi dopo rischiate veramente di spaccare la scheda madre, poi giustamente se la scheda madre non funziona, non è perché il dissipatore è cattivo, siete di voi che siete stati cattivi a stringere a morte quando effettivamente non è necessario, perché non è che pesa 90 kg, cioè, basta che faccia una buona pressione. Le viti invece della torre sono comodissime, perché alla fine basta avvitarle e poi sono autobloccanti, perché nel momento in cui sono arrivati a fine corsa, basta, non c'è niente, basta che voi avvitate, continuate ad avvitarle fino a che non arrivate a fine corsa. Quindi anche lì proprio non vi potete proprio sbagliare. Quindi in quanto, con un peso di pasta termica, magari appunto ammirare il vostro lavoro fatto, se ci mettete un quarto d'ora siete già troppo lenti, io ce ne ho messi 17. Ovviamente sia dalla torre che dalla ventola è possibile, poi escono appunto il doppio cavo, dalla ventola partono due cavi, uno appunto per attaccare al CPU fan per l'orientazione della ventola, mentre invece esce un altro che è un attacco RGB che poi potete collegare in ponte con l'altro cavo RGB che esce dalla torre da poi poter collegare alla scheda madre in modo da poter sincronizzare tutta l'armonia di luci con la torre e poi eventualmente anche sincronizzarlo con tutto il vostro ambiente di luci in modo da creare un effetto RGB molto figo per i gamer che piace tanto. Passiamo invece alle prestazioni. Allora, ho testato questo dissipatore col 13400 in vari step di lavoro, partendo dal presupposto che ho deciso di giocare sporco col dissipatore perché gli ho detto no, io l'aria condensata non te l'accendo e ho fatto tutto con un ambiente, una temperatura ambienti di circa 31 gradi, 31 gradi e 2, quindi una temperatura ambientale diciamo non proprio ottimale, cioè nel senso ci sto male io, vabbè, poi il dissipatore nel senso il processore non è che ha problemi a morire, però nel senso io ho sofferto, il processore no. Perché comunque nonostante una run di 30 minuti sotto Cinebench R25, devo dire, ragazzi, le temperature parlano, chiaro, ok? 30 minuti a 31 gradi, un processo del genere che, cioè, ragazzi, questo è un processore che quando decide di chiamare 110 watt, 115, li chiama tranquillamente, senza problemi, ok? E appunto, io vengo forte dell'esperienza di un 5800X che ha messo in crisi un Noctua 12S, un Noctua, un 5800X, ed era un processore che consumava praticamente gli stessi watt del 13400, è che sto parlando di numeri a caso, cioè, quindi ho già un'esperienza dante che resta. E oltretutto, io non ho fatto nessun tipo di downvolt al processore, anzi, l'ho andato da BIOS e gli ho aperto tutti i rubinetti, perché volevo proprio che doveva, doveva proprio soffrire l'istipatore, cioè l'istipatore doveva essere messo con le spalle al muro, e io ho aperto tutti i rubinetti, tutto quello che potevo sbloccare l'ho sbloccato, in modo che il processore avesse spalle libere e fare quello che gli fa. E infatti il processore ha fatto quello che gli è parso. Ho fatto test su Cinebench, Prime 95, e poi il famosissimo Intel Barn Test, che oltretutto mi sono pure anche scordato, l'ho lasciato lavorare per tutte e dieci cicli, gli ho fatto fare dieci cicli di default, alla massima potenza, e quello non gli è fregato niente, quello ha continuato a lavorare tranquillamente, cioè veramente è una cosa stupenda. E si parla di un processore che comunque, è vero, il 13400 non è il processore più spinto ad oggi in commercio, però non possiamo neanche dire che sia un processore che sia così tanto tranquillo. Se lo andiamo a paragonare a un 7600, o a un 5600, o un 5700X, sono processori molto più contenuti come consumi. E niente, quello non mi piegava niente. E oltretutto, la cosa bella, è che sotto Intel Barn Test l'evento era silenziosa. E infatti la curva è quella stock, non è che l'ho toccata, la curva è rimasta stock. Quella che ho preso è quella che viene messa di default dalla scheda madre. Quindi, io non ho toccato niente a livello di ventola, perché volevo metterla in crisi, ma non ci sono riuscito, non ci sono riuscito. Questo è un dissipatore che tu lo ficchi con un 13400XK, manco se ne accorge di avere un 13400XK, se non inizia a bruciare come un mannaro. Ma nell'ambito quotidiano, questo dissipatore qui non se ne accorgerà mai di avere sotto un 13400XK. Questa è una cosa veramente figa. Per andare in conclusione, signori. Allora, il dissipatore ad oggi potete acquistarlo per circa 53€ da Amazon o dal sito di Endorfi. Vi lascio tutti i link sotto in descrizione, quindi avete tutte le informazioni sotto per tutto quello che vi può interessare sul prodotto. Per chi non è amante degli RGB, perché può essere che non è amante degli RGB, ma è un dissipatore che deve essere acquistato per uno studio fotografico e le lucine non piacciono, magari. Esiste anche una versione identica in prestazione a questa, però non è RGB. Quindi sostanzialmente esce senza lucine, è completamente più sobria, ecco, meno giovanile. Signori, io ringrazio ancora Endorfi per il prodotto mandato, mi veramente ringrazio veramente Endorfi per questo dissipatore che non avrei mai pensato che è un brand, diciamo così, non lo voglio chiamare secondario, perché alla fine in realtà è un brand che promette veramente tanto e vedo che ci stanno fidando veramente tanto dentro per far vedere i loro prodotti, far vedere che sono prodotti che alla fine non temono altri della loro categoria. Veramente devo fare i complimenti a loro per aver creato un dissipatore che comunque con 50€ praticamente ti sei messo, come si può risolvere, il sedere in paratia con tutti i processori attualmente in commercio. Signori, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!